Ci risiamo. Continua ad essere utilizzata dai furbetti dei rifiuti l'area dell'ex campo d'aviazione che per l'ennesima volta si presenta come una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. La nostra redazione se ne è occupata già più volte, ma a quanto pare nulla è servito. Eh sì, perché dopo queste foto, inviateci dalle guardie ecologiche a Sogev, questa mattina ci siamo recati di nuovo sul posto. Guardate in che situazione versa la zona. Si trova veramente di tutto. Ci sono parti di un'auto, fra cui sedili, diversi contenitori di prodotti chimici, una scala arrugginita, una lavatrice e materiale di scarto come calcinacci e teloni di plastica, più spazzatura varie ovunque. Alcuni testimoni ci riferiscono di come la zona sia poco controllata da chi di dovere, perché le persone non aspettano nemmeno che cale il sole per gettare i rifiuti. Lo fanno tranquillamente e indisturbate anche di giorno. D'altra parte, gli uffici ambiente ci hanno spiegato che c'è poca collaborazione con i cittadini, perché spesso ci si lamenta, ma poi nessuno segnala quanto visto. Episodi di inciviltà come questo potrebbero essere risolti con una telefonata agli organi competenti o semplicemente cambiare tragitto di poche centinaia di metri e arrivare al centro di raccolta differenziata in via dei Platani. Fra l'altro, per quanto riguarda la lavatrice, c'è il ritiro cosiddetto uno contro uno, e cioè l'obbligo per il venditore di ritirare il vecchio elettrodomestico. O addirittura Aset Spa ritira materiale direttamente a casa e in modo del tutto gratuito, se non superiore a due metri cubi. Invece, per i furbetti dei rifiuti, in base alla tabella consultabile sul sito del Comune di Fano, le sanzioni previste possono andare da 50 a 400 euro. Le multe ovviamente vanno rapportate al tipo di infrazione, al rifiuto abbandonato e al posto in cui si commette l'illecito. Di certo, l'augurio è che fra i buoni propositi per il 2017 rientra anche quello di curare e di rispettare di più l'ambiente che ci circonda.